eccoci qua benvenuti quadri locale sacro cuore siamo esattamente davanti alla chiesa del sacro cuore e ci troviamo in questo appartamento completamente ristrutturato cucina e soggiorno open space enorme tutto quello che vedete è tutto compreso nel prezzo che vi diremo dopo qua abbiamo il primo affaccio della casa ci muoviamo invece adesso verso la zona notte della casa stanza work in progress che non vedremo oggi vi porto nella camera matrimoniale commentate voi bagno di servizio con la sua doccia altra camera matrimoniale con il secondo affaccio della casa ultima chicca della casa bagno con la vasca abbiamo visto un quadri locale doppi servizi doppio affaccio post auto condominiale cantina completamente ristrutturato e arredato posizione super 245 mila euro così così la compro io